Adesso chiedere tutti i ragazzi che hanno preso parte alla serata, che facciamo una bella foto di gruppo, che la signora professoressa Valuta deve fare in fretta fino a un mare. La stessa storia. E poi, se mi non consentite, se mi non consentite, lo dico lo stesso, volevo ringraziare quantomeno che lo possano. Antonio Pignanelli, che ci fa sempre dei bellissimi video che poi mette su Youtube, il papà del vostro alunno, potete andare su Youtube come avete informati di questi saggi, e se non avete avuto molto, voglio cercare di fare la telegrama per scaricare, e provvedete anche le esibizioni dei ragazzi che hanno preso il papà del contorso di Città di Fradale. Grazie mille, concorso musicale, concorso musicale, tradate 2013, città di Fradale, sono tradate 2012, e ci trovate anche con il 2012, se qualcuno, se persone si possono, come non sappere in fretta lista dados sicuramente non sicuramente della subito del contorno a studiario. NASBRO COSTANZI eccola ecco. addoltre molto! da aiutare ciòam... Grazie.